E non hanno neanche snaturato la montagna. Attrazione e utilizzo dei fondi europei per lo sviluppo dei territori montani, utilizzo dei fondi alto legati allo sfruttamento dell'acqua potabile captata nelle sorgenti di montagna, e ancora costruzione di una nuova economia verde sostenuta dalle tecnologie digitali, superamento del divario digitale nei territori montani. Se ne è parlato nella sede di Corso Inghilterra della città metropolitana, nel corso di un incontro promosso dall'UNCEM Piemonte e dall'ente di aria vasta che ha raccolto l'eredità della provincia di Torino, nell'ambito del confronto sul piano strategico di cui la città metropolitana si doterà per programmare le sue politiche di sviluppo economico. Nella direzione di un rapporto di scambio positivo e reciprocamente vantaggioso vanno ad esempio i fondi alto, oltre 10 milioni di euro, che ogni anno vengono investiti nelle aree montane per la tutela delle fonti idriche e la prevenzione del dissesto idrogeologico. È l'unico esempio in Italia di pagamento dei servizi ecosistemici ambientali, previsto anche dalla legge nazionale sulla green economy, il collegato ambientale alla legge di stabilità. La montagna piemontese immagazzina e garantisce ogni anno 13 miliardi di metri cubi di oro blu. Bisogna costruire, secondo me, elevare la nostra qualità e capacità di progettazione. Se vogliamo che la montagna piemontese possa essere elemento di forte protagonista anche di protagonista dello sviluppo economico della nostra regione, questo sì. E l'idea di un'economia e di un sistema economico-sociale integrato, nel quale la montagna non sia un appendice secondaria, derivata, più fragile, ma sia per la sua quota parte, sia di territorio che di popolazione, un elemento altrettanto trainante dell'economia regionale. La consapevolezza della montagna che Torino è importante, la consapevolezza di Torino che la montagna è un elemento qualificante per questa città metropolitana. E noi la vogliamo interpretare in questo modo. Il lavoro che stiamo facendo va in quella direzione, il supporto che noi diamo alle terre alte attraverso, per esempio, la progettazione su Alcotra, sui fondi europei, quindi tutto il supporto che noi diamo anche tecnico nei nostri uffici, rispetto a questi obiettivi, che sono obiettivi fondamentali, in quanto la peculiarità della città metropolitana di Torino, con queste terre alte al suo interno, fa sì che noi diventiamo una città metropolitana che è un unicum a livello europeo.